un coloroso saluto a Vittorio Sgarbi stasera sono ad Avellino in piazza Kennedy dove l'illuminazione è coperta dall'erba dall'erba, 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 dall'erba come vedete e quindi posso dire che mentre a Salerno c'è luci d'artista qui in piazza Kennedy c'è buio d'artista buio d'artista, buio d'artista è un pericolo per chi passeggia qui nelle tenebre i rampicanti hanno coperto i fari le lampadine, le lampadine per vedere l'illuminazione bisogna chiamare chi l'ha visto chi l'ha visto? le luci sono nascoste nessuno taglia l'erba che li copre non si vede una mazza una mazza, una mazza guarda, ti possono rapinare, aggredire, malmenare rivolgiamo la luce liberate la luce dei rampicanti rivolgiamo i fari ormai si intravede solo sporadicamente un po' di luce a fioca a piazza Nacello chiamate il tagliaerba e un elettricista ecco, ed eliminiamo il buio d'artista guarda qua non ci sono più le luci coperte dall'erba capre quindi liberate le luci capre, capre il buio d'artista il nulla l'oscurità le tenebre capre capri ignoranti del comune buonasera Vittorio Sgarbi and I want you to be mad capre 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 Grazie a tutti